Grazie 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 qualche giro mi ha sbagliato ah è di fresco Ollevamo a Matteo, il suo figlio, il Zamorano. E fece. Ollà. Il mondo è precario questa cosa. Alla bene, fino a l'irete. Ollà, camada. Ramsey. Che cazzo me ne devo fare di Ramsey, non lo so. Mortacci di Konami. E poi c'è pure c'è. Allora dai, stiva. Proviamo, vediamo. Ma che cazzo me ne fotte. Io le leggende, le mie rassicurature, me le metto sul Kaiser. Non mi serve. Adoro, è palerciente che scriva. 3 G, non va. Ma che cazzo me ne fotte. Io ho capito. Sì, non mi serve. Persino adesso. E poi vedi quando giraffa fa una leggenda. Vedi quando giraffa? Fa una fortissima leggenda. Vaffanculo, va. Konami di merda. Konami di merda. Lo guarda. E cazzo. Piepe. Una roba all'argentino. Ah, no, no. Palla mia. C'è questo. C'è questo. Buschetti ho ancora. Madonna. Ma che palla. che palla, buschetti. Ah no. Ho anche i banchetti. C'è lì. doppione su doppione. Madonna, va. Che f rappro уже questa cosa. Mamma mia. Che f rappro. F rappro. Ferciume, ferciume, siete ferciume, letame siete, siete letame, scuonami, siete letame, 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 siete. E' a fondo, e' a fondo, e' a fondo. E' a fondo, e' a fondo, e' a fondo. Ma non ha risposto? ammorto l'ho a città l'ho dottore a città l'ho sangue l'ho sangue mi dà pure oggi tre ore per trovare un avversario ma che palle mamma mia tre ore per trovare un avversario uuuuh tre ore per trovare un avversario tre ore per trovare un avversario mamma mia guarda questa roba la voglia di farla sola la devo fare perché devo levare la squalifica becca per quello stiamo male io bazooka città nostro di bazooka di lecce a a a a Grazie a tutti. 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 Ma che passaggio? La quale è più lungo, lo devi evitare. Ma vaffanculo va. Un passaggio più lungo che vuolà. Ehi, va bene. Grazie a tutti. Oh, rigore, è rigore quello. Madonna, è rigore quello. Madonna, sono nel rigore quello. Grazie a tutti. Ma che punizione, ma che punizione, ma che punizione, ma che punizione, dove l'hai vista sta punizione? Vabbè, va bene. Vabbè... Grazie a tutti. 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 e con questo senore doppietta abbiamo una grande partita e si riparte a un giro la parte partita è sicuramente un quadro spesso è chiaro che per una differenza andiamo in un dinamico di gioco nel campo di squadra benissimo la strada per si vede già la strada per 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 Grazie a tutti. 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 No, non è fallo quella, no, 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 vabbè, non è fallo. Grazie a tutti. Arto. No, 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 no. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. 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 bambini. allo stop. a tutti. a tutti. a tutti. hanno proprio bisogno dell'iniezione che gli darebbe un gol lo cercano, lo cercano ampone a queste distanze. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.